Arriva dal progetto di Dolomiti Custodi del Territorio il contributo bellunese alla settimana europea dello sviluppo sostenibile. Un festival che coinvolge tutta Italia toccando varie tematiche ambientali a cui la provincia di Belluno è risposta evidenzando l'importanza dell'agricoltura di montagna per le comunità dolomitiche. E' importante preservare l'agricoltura di Belluno poiché è caratterizzata da un'alta biodiversità che ne fa l'alto valore aggiunto dei prodotti che vengono realizzati all'interno di quest'area. Possiamo osservare come lungo l'enorme superficie di questa provincia vengono prodotti delle varietà che è difficile trovare in altre zone d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i cereali, i legumi, i prodotti derivanti dal caseario. Questo ne caratterizza positivamente il nostro mercato locale. E' importante dunque supportare gli agricoltori nella loro azione attraverso iniziative che ne diano lustro e ne diano immagine lungo il mercato nazionale. Con lo slogan Compra Bellunese l'associazione di Dolomiti vuole tutelare le aziende agricole locali e favorire l'autonomia economica ai piccoli produttori. Abbiamo voluto inserire questa serata nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in quanto l'idea che noi portiamo avanti, specialmente nel bellunese, è aiutare e dare una mano alle piccole aziende che nella nostra provincia sono sicuramente meno aiutate e a nostro avviso anche meno pubblicizzate. Noi vorremmo come progetto dare più visibilità a queste piccole aziende, ai prodotti e al lavoro che esse fanno, perché sappiamo che la domanda che tanti vorrebbero, insomma il sogno di tanti, sarebbe quello di poter vivere, di poter mantenere la famiglia grazie a questo lavoro. E noi nella nostra idea per le imprese del bellunese è proprio quello che vogliamo, dare loro una mano in questo loro sogno e aiutarli a portarlo avanti e a renderlo anche possibile.